Buongiorno o buonasera a tutti! Quindi il momento è arrivato, per l'occasione ho messo la maglia della Roma Ci siamo, vi lascio quindi al trailer, ci sono almeno un centinaio di persone che sono a aspettare il video su questa pagina Quindi veramente è il momento di agire, vi lascio al trailer e poi avrete la possibilità di ottenere il pacco Se qualsiasi cosa non va bene, non preoccupatevi, scrivetemi una mail o tornate a questa pagina dopo Ecco, farò in modo che tutto andrà bene, quindi non preoccupatevi in ogni caso Se siete qua adesso, ecco, quindi basta scrivere una mail se qualcosa non va bene e sistemerò tutto e vi tengo un posto, tranquilli Quindi vi lascio al trailer, dopo apparirà il pulsante per appunto tenere il pacco Quindi buona visione e ci vediamo presto! Ciao ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!